Siamo all'interno del motopesca che ha subito il furto, è chiara anche la dinamica e il percorso che hanno fatto i ladri, da dove sono entrati? Praticamente dalla porta secondaria, l'hanno scassinata, poi sono venuti qui nella plancia, hanno trovato i vari schermi, i primi due che venivano facilmente, che non sono invitati, hanno levato i spinotti e li hanno presi, poi si sono andati di sotto nella cucetta e si sono trovati praticamente nel retro, hanno scardinato il montante di legno e si sono trovati tutti i computer e da lì hanno levato gli spinotti e hanno portato via tutto. Poi dopo ci sono messi a girare per la barca, hanno aperto il cassa panco, hanno trovato questa valigia rossa e hanno portato via gli attrezzi da lavoro, tipo le chiavi inglese, se non la cassetta peserà 30 kg e passa, è così. La montare del danno più o meno lo avete quantizzato? Come strumentazione è una trentina di mila euro, dai 20 ai 30 mila euro, poi dopo gli strumenti, anche quelli del valore economico. Qui c'era il documento? E hanno preso le busche? È successo questa notte, siamo accorti dalle telecamere, dalle 1.10 alle 1.30, 20 minuti, hanno fatto i viaggi avanti e indietro, la macchina era qui 50 metri scostata, dalle telecamere la macchina non si vede, si vede queste tre persone vestite di nero, così. Ecco, ora voi, insomma, se è possibile, fate un appello perlomeno, quantomeno di riaverli documenti, perché riaverli e rifarli è una procedura lunga. Sì, adesso il nostro appello magari è rivolto più che ai ladri, che magari non lo vedranno neanche questa intervista e alla gente magari si trova questa borsa rossa, quei documenti o anche documenti vari sparsi in giro con cose dai, la motopesca e motopesca tartane, sono cose importanti per noi, che poi ci vuole molto tempo e finché non avremo questi non possiamo uscire in mar, ci sono cinque famiglie che lavorano a bordo e bisogna stare a casa. Ecco, quindi, oltre al danno materiale c'è anche il danno economico del mancato incasso, perché chiaramente stando a terra non guadagniamo. Sì, sì, saremmo usciti questa mattina, oggi e domani per due giorni, quindi purtroppo è così. Adesso, quando pensate di riprendere il mano? Ah, non lo so, quando si può, una settimana, un mese, due, dipende anche dalle capitanerie di Porto, se si danno una mano o che sia, dai, potrebbe essere fra una settimana come potrebbe essere fra due mesi, questo speriamo bene. Siamo qui nel parcheggio della Gimara perché ai componenti dell'equipaggio è arrivata una telefonata che pareva, diceva, avevano trovato dei documenti qui nei cassonetti, ma insomma al momento non è stato ritrovato ancora nulla. Grazie a tutti.